Salve, mi chiamo Alfredo Berrotti e sono rispoltore. Nel tempo libero cerco di fare l'artista. Di solito dipingo quadri ad olio, ma per questa occasione ho preferito fare un ritratto con le matite colorate. Ho trovato una foto di un fotografo russo, Denis Drozin. Mi è piaciuta molto, ma era troppo bella questa foto e quindi ho deciso di strapparla. Grazie alla Commissione per averla scelta anche così mal ridotta. Ciao a tutti.